Ciao, ti è mai capitato di sentire in giro fra i tuoi colleghi o sui social ah guarda quel musicista lì ha rovinato il mercato? Oppure chi va a suonare gratis danneggia la categoria? O chi va a suonare per 50 euro è solo una prostituta della musica? E bla 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 bla? Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente e ho tre consigli per te per evitare la frustrazione da sottopagamento e relativo calo di autostima e conseguente autosvalutazione. Uno, non esiste un unico grande mercato, esiste solo il tuo mercato. Infatti non hai concorrenti perché sono concorrenti e infatti corrono con te e non contro di te. Due, stabilisci il tuo prezzo che devi calcolare non in base alle tariffe degli altri. Infatti solo tu sai quanto vali. Perciò quantifica il tuo prezzo in base al valore che la tua prestazione aggiunge alla richiesta che ti è stata fatta. Ovviamente stabilisci il prezzo in base alla situazione. Non puoi pretendere la stessa cifra che otterresti se sei in un tour che suona nei palazzetti o negli stadi quando invece vai a suonare in un piccolo club. Valuta la tua richiesta anche in base a ciò che ti può tornare indietro aderendo alla richiesta che ti è stata fatta. Per esempio in termini di visibilità, in termini di soddisfazione personale. Non c'è solo il valore monetario. Spesso le prestazioni si fanno anche per investimento, soprattutto all'inizio della tua carriera. Tre, non fare l'errore di esigere un prezzo in base alle ore. La tariffa ore oramai è un concetto superato da tempo. Valuta il tuo prezzo in base alla prestazione e al valore che la tua prestazione aggiungerà alla richiesta che ti è stata fatta. Fatti pagare per la qualità della tua prestazione. In definitiva mi sento di consigliarti di non badare a ciò che direbbero di te e delle scelte che tu fai i tuoi colleghi e le persone addette ai lavori. In definitiva, se ritieni giusto andare a suonare per poche decine di euro o anche gratis, ma lo stai facendo per una giusta causa che sia promozionale, di beneficenza o per qualsiasi altro motivo, tu fallo e basta. Perché quello che rimane di ognuno di noi sono i fatti, non le parole. In chiusura, se pensi che il pensiero che ho esposto in questo video rifletta anche il tuo, allora condividilo con i tuoi amici e con i tuoi colleghi. Usami pure come portavoce della tua espressione. Magari scrivi sul titolo del post quando condividi questo video che sei d'accordo con me. Fallo sapere, i tuoi amici, è importante. Ci tengo. Ti saluto, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Ruggero.